Salve e benvenuti al nostro amico libro, sono il vostro flaneur e vi invito a questa passeggiata virtuale nella speranza che anche voi vi divertiate e per qualche aspetto siate edificati, partendo da questa pubblicazione delle Paoline, i doni dello spirito tra Bibbia, musica, preghiera, attualità e cinema, un lavoro a molte mani, uno schema che si ripete e in particolare vogliamo segnalare e darvi anche un piccolo saggio di una preghiera che sempre conclude i vari capitoli di questi doni dello spirito, per esempio donaci luce. Spirito Santo vieni non lasciarci soli, riempi la nostra vita con il dono dell'intelletto, scendi negli angoli più nascosti del nostro cuore perché impariamo a guardare tutto ciò che di bello Dio Padre ha messo in noi per trasformarlo in dono per gli altri. Vieni e donaci l'intelletto e così possiamo vedere questi schemi che si ripetono per dare la varietà delle dimensioni cinema, Bibbia, attualità e poi preghiera, non manca la musica, non mancano i riferimenti al mondo giovanile perché è una pubblicazione che vuole incoraggiare appunto i giovani a riscoprire i doni dello spirito. E dalle edizioni carmelitane di Gimon Sulecchi la libreria o meglio la biblioteca del monassero carmelitano di Piasek in Cracovia e quindi siamo in Polonia. Noi ringraziamo queste edizioni dell'istituto carmelitano, approfittiamo per mandare un pensiero riverente, una preghiera a padre Bruno Secondin recentemente scomparso e allora vedete dall'indice la tavola dei contenuti. Intanto l'istituzione di questo Carmelo, poi la vita intellettuale, i vari periodi che sono scanditi anche in riferimento alla storia, tutti sappiamo, drammatica della Polonia e poi i vari cataloghi disponibili che danno conto delle acquisizioni, delle sparizioni, purtroppo una sorte più o meno comune a tutte le biblioteche e ci sono diversi, possiamo inquadrare, diversi inserti iconografici che ci fanno vedere i protagonisti, ci fanno vedere anche i caratteri, le pubblicazioni dedicate alla Vergine Maria, alla storia dei carmelitani e poi ancora alcuni esemplari, i registri, alcune illustrazioni particolarmente suggestive, sono libri di canto, sono libri monastici, sono libri di teologia dogmatica, ancora un altro inserto prima di concludere, vediamolo un po', di ricercarlo, per dare un'idea concreta, eccola qui, no ma cercavamo un'altra per variare un po' il tipo delle illustrazioni e qui viene ricordato Boleslaw Uscinski nella biblioteca dei carmelitani, siamo nel 1939, una data emblematica, particolarmente drammatica perché segna l'invasione nazista in Polonia con conseguenze anche drammatiche su questa istituzione. Nello stesso torno di tempo, gli anni di Torriglia, 1943-1945, quindi ci colleghiamo questo racconto di Giorgio Grasselli dalla Cleup. Giorgio Grasselli come molti altri dovette uscire, andare via dalla città, era un ragazzino, trovare riparo in campagna e questi due anni di guerra che lo hanno visto per sua fortuna lontana dalla guerra, ma arrivano le notizie dei bombardamenti, non soltanto le notizie, anche a volte si sentono vicini i bombardamenti, gli scomparsi, quelli che non tornano più e comunque le difficoltà che tutti hanno dovuto attraversare durante la guerra. Da Primalpe, San Maurizio e la Madonna degli Alpini a cura di Maria Bramardi. Maurizio faceva parte di quella mitica, dobbiamo dire, legione tebea che parla appunto dello sterminio di migliaia di soldati romani ormai convertiti, ecco possiamo inquadrare questa tela dipinta da Grunewald e Maurizio appunto è questo cavaliere nero perché siamo sulle coste dell'Africa, l'Africa che era romana e questa devozione a questa leggenda tebea che viene, come dire, ridimensionata perché non si è trattato dello sterminio di una legione ma comunque testimonianza del martirio dei primi testimoni cristiani. «Martin soldat partì da mattin da cà per mondo senza nomi pina intornà, perché sei morto Martin soldat? Alpin passà dell'orto al mondo perché sei morto? Ngun lo sa, alpin soldat, cascante pra lontan da cà, srenzando il cuore dei briciolini, alpin ma zanà». Ecco, questi versi fanno vedere come Maurizio diventa protettore degli alpini che qui vengono ricordati nel loro sacrificio, chiamiamolo sacrificio non voluto certamente ma voluto dai dittatori che amavano guerreggiare a spese degli altri. E andiamo avanti in questo nostro girovagare, abbiamo detto che ci presentiamo così come un flaneur invitando anche voi a questo spasso e trecreazione da oligo di Arthur Rambeau che vediamo in immagine, i sogni di Arthur con traduzioni di Davide Bregola. È il ragazzino Arthur che sta in collegio e che manda delle lettere affettuose alla mamma che qui vengono riprodotte, niente di particolare, solo nel fatto che appartengono a un bambino che poi diventerà grande e famoso con le sue illuminazioni, una stagione all'inferno. Possiamo vedere Arthur Rambeau adolescente qui a sinistra e tutto il volumetto, vedete ancora Reims dopo i bombardamenti della prima guerra mondiale, ancora forse il ritratto più no di Arthur Rambeau e dicevamo sono letterine di scarso valore, scrive alla mamma, lui sa in collegio, chiede qualche provvista alimentare, chiede di riabbracciare la mamma eccetera e ripetiamo sono queste incursioni simpatiche nell'infanzia di autori che poi diventeranno famosi. Invece di un grande autore William Blake si parla in questo volume di studio editoriale, William Blake, libri profetici nella traduzione di Roberto Sanese, quindi un autore classico, siamo alla fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento, tutto il volume. Possiamo inquadrare, porta a sinistra il testo originale inglese, a destra la traduzione italiana, qualche immagine possiamo inquadrare che dà idea di questo poeta ma anche illustratore. William Blake è stato ugualmente grande come poeta e come illustratore ancora un'altra immagine dedicata alla profezia di Europa, qui a destra possiamo inquadrare e via di questo passo ancora un altro, il primo libro di Uricen, alla fine poi del volume abbiamo intanto ancora la traduzione sempre accompagnata al testo inglese e poi un lungo repertorio sulla vita, sulle opere di questo autore. Andando avanti, un'altra ulteriore sezione, come dire, di viaggi, non potevano mancare, da Solfanelli di Chieti, Pino Coscetta, Viaggio in Abruzzo con Giorgio Manganelli, di Postfazione di Lietta Manganelli. Giorgio Manganelli è stato tra gli autori più noti del secondo novecento e questo Pino Coscetta ha l'idea di invitarlo nel suo Abruzzo e così stende queste note di cui abbiamo qui il resoconto partire da questa dedica che Giorgio Manganelli dedica a questo suo amico sodale che lo ha invitato a Pino Coscetta impeccabile automedonte, variato e simpatico conversatore, dotto ed esperto commensale, cordiale e saggio sodale, insomma amabilissimo compagno di viaggio con amica gratitudine suo Giorgio Manganelli nella Hall dell'Hotel Esplanade, Pescara, 23 aprile 87. Via di questo passo con appunto questo ospitante che porta Manganelli nella sua patria e Giorgio Manganelli che tra un pranzo e una cena, che gradisce moltissimo, fa alle sue riflessioni che poi pubblicherà. Scanno, ora che maggio è dunque un mite inverno, è in primo luogo il piacere di arrivarci. Vedete il testo, possiamo inquadrare ogni capitolo, per esempio Pescara, il pianista sull'Adriatico, riporta una citazione del resoconto cronachistico di Giorgio Manganelli. Il messaggero, leggiamo e inquadriamo, 25 giugno 1987, nella Pescara di oggi, rutilante di aggressività moderna, via Mantonè e una bacheca, uno scrigno scheggiato, uno stipo che custodisce la Roma, quasi affatto smarrito di una città che certo conobbe pigre e borghesi dolcezza. Vedete tutto il volume è intrecciato di questo viaggio e delle riflessioni di Giorgio Manganelli. Dalle Dioniane di Bologna, un libretto sbilzo ma molto bello, conferenza episcopale della Toscana, la forza della parola, lettera su comunicazione e formazione a 50 anni dalla morte di Don Lorenzo Milani, che vediamo qui in copertina con i suoi alunni. E questa lettera della conferenza episcopale toscana rende un omaggio a questo sacerdote che a suo tempo molti non hanno capito, hanno anche osseggiato. E allora qui vengono riportati anche alcuni personaggi della storia della Chiesa di Firenze, il periodo di formazione di Don Lorenzo Milani, i difficili inizi, le esperienze pastorali e quello che Don Milani a tutt'oggi dice ancora, non solo alla Chiesa di Firenze ma alla Chiesa italiana. Da Olski, nella biblioteca dell'archivum romanico di Andrea Mirabile, es rapaun e l'arte italiana, fra le avanguardie e d'annunzio. Molte volte ci siamo occupati di questo grande poeta, è stato anche un convinto fascista, ha pagato con una dura prigionia alla sua militanza fascista, poi finalmente liberato. E qui un aspetto particolare della sua lunghissima militanza poetica, le sue poesie, le sue conferenze, i suoi interventi, in modo particolare l'opera di una vita. Leggiamo, per dare un esempio, Ombra sono e ombra fui, mi venne dal diafano formato quando io scritti l'Isoteus, ma ombra che seppe il greco tu sei perché amasti, ma vivo quel giorno nella lezza perché amai Omero, misurando i miei versi contro i suoi, plasmando i miei sul suo modello. E via di questo passo, in questa ripresa, in questa ricostruzione della poetica, della militanza di Esrapound, che viene ricordato, per esempio, da Eugenio Montale, leggiamo, sono le memorie di un uomo vivo, ma vivo più che altro di ricordi. In nessun tempo, neppure quando egli spargeva i semi che destarono molte intelligenze, Pound fu un uomo del presente. Era sempre un poco al di là o al di qua della storia in atto. E la storia stessa, quando si spiegava dinanzi alla sua fantasia, si trasformava in una cronaca universale, in una serie sterminata di fatti diversi. I Cantos, che sono la sua opera principale, che lo ha reso immortale, lo ha collocato per sempre tra i più grandi poeti, i Cantos, sono infatti un prodigioso cibreo di citazioni. Ciò che dimostra la formidabile memoria del poeta è il tematismo della sua visione della vita. Per lui la storia è una partitura musicale, che gli apre qua e là per suo diletto o per trarne nuovi temi di poesia. Un cenno viene fatto anche a una storica, dobbiamo dire, intervista, che Pier Paolo Pasolini fece a Esra Pound e poi, come sempre, la bibliografia. Da Levante di Bari, un lavoro a quattro mani, Santa Fizzarotti Selvaggi, che è una poetessa, e Dario Cianci, che descrivono questo mosaico della felicità, biodiversità tra scienza, arte e poesia. Appunto, arte e poesia, il mondo di Santa Fizzarotti Selvaggi, la biodiversità e il mondo di Dario Cianci. Allora si alternano qui le poesie e le riflessioni scientifiche di questo autore che contribuisce a questo volume. Per esempio, medicina umana e animale, oppure, siamo alla poetessa, il proprio cagnolino Glicà, con una citazione di Pablo Neruda o di Alcane, la gioia ad essere cane e ad essere uomo tramutata in un solo animale che cammina muovendo sei zampe ed una coda con rugiada. E veniamo alla Ericsson di Trento, di cui abbiamo sempre detto, non ci ripetiamo, di Gerlinde Ortner, Dimmelo con una fiaba, Migliorare il rapporto con i propri figli, ed è un libro tutto di fiabe per dare un'idea. Le fasi critiche legate allo sviluppo, inquadriamo l'indice, l'apprendimento di modalità comportamentali. Se vostro figlio non vuole andare a dormire, se ha gli incubi, se è spaventato dai cani, se ha paura del dentista, se non è mai pronto, se è disordinato, se dice le parolacce, se è disobbediente, e via di questo passo, fino ad alcuni comportamenti particolarmente problematici, di bimbi che sono irrequieti, disturbano perché magari hanno alle spalle una famiglia distrutta e allora le inibizioni sociali, imparare a perdere e a gestire fallimenti e delusioni, se i genitori litigano, bambini con un solo genitore e la paura di perderli, e un'ultima ricca sezione di questa prima parte corposa, abbiamo il mondo di lei, da Carocci di Sofì Agnoli, l'alfabeto della moda. Allora, per un volume del genere, sfogliare, gustare qualche citazione dotta, Roland Barthes, per esempio, è un'illusione sostenere che la moda sia ossessionata dal corpo. La moda è ossessionata da un'altra cosa che Erte, famoso modista, disegnatore di mode, ha scoperto con la lucidità estrema dell'artista, la lettera, l'iscrizione del corpo nel linguaggio semantico dei segni e allora sfogliamo questo bel volume con i particolari, vedete a sinistra il titolo, calze, a destra l'illustrazione molto chiara e ancora, andando avanti, sempre la co-girl, il décolleté, immagine e descrizione, l'esotismo, ancora una citazione di Edit It, Parlare di moda e non citare la biancheria intima è come leggere un thriller di Ian Fleming senza James Bond. Così come Bond dà forma all'ultimo trionfo, la lingerie è l'agente segreto che ti modella per il successo. Ecco il logo, che dà importanza e fa salire i prezzi, una citazione di un'attrice famosa per il suo esibirsi, agli uomini, dolcezza, piacciono i vestiti che mostrano quel tanto che gli fa desiderare di vedere di più May West, una maestra. I quadri, vedete qui, titolo e illustrazione, e via di questo passo fino alla conclusione con l'uniforme, quindi le ultime tendenze della moda, il velluto e la XL, ma c'è anche la XXL. E ancora, da Bolzoni, di Michela Zaccaria, Prime donne, Flaminia e Silvia, dalla Commedia dell'arte a Marivaux. E vediamo, qui all'interno di questo bel volume della biblioteca teatrale della Bolzoni, queste prime donne, intanto le famiglie, erano famiglie di teatranti, i Calderoni e i Balletti a Ferrara, i Riccoboni a Modena, i Benozzi a Mantua, sono le famiglie di cui vengono queste donne, Elena Balletti-Riccoboni, di Ferrara, vivente, famosissima, comica, tra cui gli Arcadi, Mirtinta, Parasside ed Accademiche dei difettuosi di Bologna. E allora le varie interpretazioni. Mero, per Regina Madre e Virago, Flaminia, Miss Anabim, Scendere negli abissi, L'ultimo sogno di Elena. E poi Silvia, La diva e il suo mondo. Jean Benozzi, in arte Silvia, Gli anni della regenza in Francia, è Monsieur de Marivaux, il famoso autore di queste, o di molte di queste commedie. E finalmente da interlinea un bellissimo volume, Sibilla alle ramo, una donna nel Novecento, a cura di Giovanna Ioli. Di questa poetessa, 1876-1960, abbiamo intanto questa bella immagine che apre questa presentazione, poi ce ne sono alcune altre, un ritratto di primo Conti, e ancora Una donna, il primo e più famoso volume autobiografico, ancora Sibilla alle ramo, un'altra edizione, finalmente andando e stando prose. Altre pubblicazioni, inquadriamole, Selva d'amore e Endimione, un lavoro teatrale che in realtà non ebbe molto successo, una dedica a Gabriele D'Annunzia e relativa risposta del Vate, e sono diversi interventi che illustrano diversi aspetti di questa poetessa, ma soprattutto donna che si emancipa, che rompe un matrimonio a cui era stata forzata per riparare, e quindi come spesso succedeva, e succede ancora, a un primo errore, se ne aggiunge un secondo anche peggiore, poi l'amicizia con Arturo Graff, ma anche la stima di Massimo Bontempelli, quella di Luigi Pirandello, che poi cambia idea, e via di questo passo. Colpisce il silenzio assoluto, opposto invece all'opera, alla sua autrice, da Benedetto Croce, che non la degna di citazione nelle sue opere di illustrazione, di autori, di poeti, di prosatori. Ho riletto tra ieri e oggi i cinque fascicoli del diario inedito dal 1945 al 1949, circa 1200 cartelle grandi, quanta vita, quanta, scrive la stessa Sibilla, niente letteratura, e niente anche o pochissima arte, ma un flusso irrefrenabile di vita, sono i diari che poi verranno pubblicati. Ripetiamo, un bel volume per questa donna, per questa poetessa, autrice anche di prose, leggiamo ancora qualcosa da questo bel capitolo, Il vento e le rose, appunto, la poesia di Sibilla Leramo, dolce, dolce sangue nelle vene mi langue, o vi cor lontano, se vieni di delizia vi gemi, se vieni mi premi o vi cor lontano, se il grembo mi rompi che langue, dolce, dolce sangue, ma ripetiamo, la poesia non è il meglio di Sibilla Leramo, la poetessa che scrive, però soprattutto la sua biografia, una donna. Ad ogni modo, leggiamo ancora, fumo di sigarette, accenno di sorriso, e di nuovo fumo, spire leggere, dalle mie labbra, dalle sue labbra, tutte le sere, qualche minuto, dal suo balcone. Quanti sono? Agili corpi, bocche e voraci, anime e lame, uomini, uomini che a me si tendono da lungi. Quanti? E lo sapeva soltanto lei. Dunque, da Interlinea, Sibilla, Leramo, una donna nel Novecento, a cura di Giovanna Ioli, da Bolzoni di Roma, di Michela Zaccaria, prime donne, Flaminia e Silvia, dalla Commedia dell'Arte, a Marivaux, e da Carocci, di Sofì Agnoli, l'alfabeto della moda. da Erickson, Gerlinde Ortner, dimmelo con una fiaba, migliorare il rapporto con i propri figli e capitolo per capitolo, attraverso delle fiabe moderne che lei inventa, affronta alcuni problemi. Levante di Bari, ci manda, di Dario Cianci e Santa Pizzarotti Selvaggi, il mosaico della felicità. Biodiversità tra scienza, che è il mondo di Dario Cianci, e arte e poesia, che è il mondo di Santa Pizzarotti Selvaggi. Da Olski di Firenze, Andrea Mirabile, Ezra Pound, e l'arte italiana, fra le avanguardie, e D'Annunzio, non soltanto i cantos, ma anche le relazioni epistolari e altri interventi di questo poeta. Dalle Dioniane di Bologna, la conferenza episcopale della Toscana ricorda Don Lorenzo Milani con questa forza della parola, lettera su comunicazione e formazione, 50 anni dalla morte di Don Lorenzo Milani. E da Solfanelli, un viaggio in Abruzzo, di Pino Coscetta, che raccoglie queste memorie, un viaggio in Abruzzo con Giorgio Manganelli, di cui sono riportati alcuni passaggi, che poi lui stesso raccoglierà, e dopo averli pubblicati sul Messaggero, raccoglierà in volume. Da studio editoriale di William Blake, che vediamo in immagine, libri profetici, nella traduzione di Roberto Sanesi. Non lo abbiamo fatto prima, ma diamo adesso un piccolissimo saggio della poesia. Naturalmente in italiano possiamo inquadrare «La tenebrosa figlia di Ortona si erse diritta davanti al rosso orc quando quattordici soli ebbero fiocamente viaggiato sulla sua buia di mura. Portava il cibo con ceste di ferro e le bevande in coppe di ferro. La donna senza nome gli restò ritta davanti, coronata da un elmo e da scuri capelli». Soltanto una piccola idea di un poeta visionario. Infatti possiamo rivedere queste sue immagini. Ecco l'America, una profezia, che è stato anche scrittore e poeta. Un libricino delizioso da oligo di Arthur Rimbaud, «I sogni di Arthur», con traduzione di Davide Bregola. L'importanza è appunto è data non tanto dal libricino, ma dal fatto che Arthur Rimbaud sarà poi il grande poeta delle illuminazioni. Due volumi di viaggio in questo nostro girovagare da Flaneur. Da Primalpe, San Maurizio e la Madonna degli Alpini a cura di Maria Bramardi, quindi si ripercorre il mito, dobbiamo dire, di questo, possiamo inquadrare, di questo cavaliere cristiano che viene martirizzato e che diventa poi nome di un villaggio in provincia di Cuneo e di un reparto militare che si sacrifica inutilmente nella infelice campagna di Russia. Da Cleop, Memorie di guerra, di Giorgio Grasselli, Gli anni di Torreglia, 1943-1945, un raccordo, ma che in qualche modo riprende le memorie della guerra, il protagonista e autore di questo volumetto, come dire, la fa franca, si salva, andando come molti hanno potuto fare, beati loro, andando in campagna presso degli amici, e ricorda soltanto il rumore dei bombardamenti. Eravamo partiti da queste due pubblicazioni dalle Paoline, i doni dello spirito, tra Bibbia, musica, preghiera, attualità e cinema, un volume a molte mani che è fatto appunto, costruito soprattutto per i giovani, per innamorarli di questa realtà dello spirito, ma citando autori di canzoni, il mondo del cinema, naturalmente senza far mancare la Bibbia e la poesia. E dalle edizioni carmelitane abbiamo approfittato per uno seco, una memoria riverente al nostro carissimo padre Bruno Secondin, carmelitano, recentemente scomparso, di Cimor Sulekhi, la biblioteca del monastero carmelitano di Piacek in Cracovia. E concludiamo, come sempre, abbiamo a fare con una deliziosa appendice da Nero su Bianco di Salvatore Tropea, Uomini e Ombre. Sono dei racconti che nascono da esperienze di viaggio quando l'autore naturalmente conosce città, popolazioni, storie, tradizioni, problemi e ne abbiamo scelto uno molto significativo che poniamo a conclusione di questa nostra puntata d'Amico Libro, Agua Azul, Acqua Azzurra, i commerci di Maria Elena. Maria Elena aveva quattro anni, in mano aveva poche banane di quelle piccole, di un giallo oro, era la merce dalla cui vendita contava di ricavare pochi centavos. Sulla strada che da Palenco conduce a San Cristobal della Scasas, passante per Rocosinco, cuore per i colombiani del Messico-Venitano, Agua Azul è un villaggio e Maria Elena appunto offre ai passanti queste poche banane per raccogliere qualche centesimo da portare a casa. Maria Elena mosse qualche timido passo verso l'automobile e l'autore, Salvatore Tropea, che viaggia, passa da quelle parti come per porgere le banane, pronunciando in un sussurro parole che volevano essere un invito a comprare quei frutti. Poi il suo sguardo attraverso la portiera posteriore aperta dell'auto si posò sul sedile dove c'erano dei biscotti e dei panini in una scatola. Chiero el pan, desidero il pane, chiero el pan, disse con un filo di voce senza staccare gli occhi come incantata da quei panini. Quando le disse di prenderli si avvicinò in credula a quell'oggetto del desiderio ed era come se si fosse dimenticata del suo commercio di banane e dei centavos di guadagno. Maria Elena di Aquasul di cui nessuno sapeva prima e nessuno seppe più dopo perduta nei meandri di un'America latina senza pace. E qui termina per il momento il nostro vagabondare di flaneur letterario al vostro servizio con un cordiale arrivederci e buone vacanze. e buone vacanze